In questi giorni di tempo un po' strano, diciamo così, anche nella nostra vallata e anche a Filina Incisa si sono verificati probabilmente condizioni di smog, anche se non siamo in grado di rilevarli al 100% perché non abbiamo uno strumento di rilevazione. Però come si sta muovendo l'amministrazione comunale? Allora, intanto è vero che non abbiamo la centralina attiva ora, ma sappiamo che verrà riattivata. Ci siamo mossi già nel corso dell'anno 2015, già a febbraio ci fu un incontro in regione toscana per questo. Non c'è più la centralina di Incisa, che però tra l'altro esperti dicono, non io, che era troppo forse vicina anche all'autostrada e quindi non veritiera dell'area circostante, ma solo di quel punto lì, verrà riattivata, o meglio, verrà modernata e dotata di tutte le strumentazioni certificate, quella di Figline, di proprietà Enel, che serviva inizialmente per la centrale di Santa Barbara. Questa è stata inserita nella rete regionale delle centraline grazie anche alla nostra spinta, perché inizialmente non era stata considerata e si pensava di poter fare con una soltanto, praticamente tutto il Valdarno a retino, soprattutto e poi a rezzo, invece viene inserita questa di Figline. Quindi questo è già un passo. È una cosa un po' lunga, perché ci sono autorizzazioni ambientali che Enel ha richiesto per altre cose e c'è di mezzo la regione toscana e il ministero. Quindi ovviamente il procedimento burocratico è un po' lungo. Intanto il comune di Figline Incisa, insieme ad altri centri della vallata, dovrà redigere il PAC, ovvero Piano di Azione Comunale. Cioè una serie di strumenti di programmazione di interventi, sia contingibili sia strutturali, per limitare situazioni come quelle di tanto chiacchierate in questi giorni. È un piano che dobbiamo redigere seguendo linee guida della regione toscana, è una cosa recentissima. Io sono stato ad un primo incontro il 22 dicembre scorso, ma insieme a noi c'è anche il comune di Reggella, ad esempio. Quindi è una serie di azioni che faremo insieme. Io ci terrei affinché l'attenzione anche mediatica andasse oltre la riattivazione della centralina e anche da parte dei cittadini, perché è vero, una centralina serve, l'abbiamo chiesta e verrà riattivata, ma la centralina non elimina il problema, al limite lo certifica. Bisogna adottare anche stili di vita un po' diversi, noi in questo decalogo di azioni che manderemo insieme alla regione toscana le indicheremo, però anche interventi che incentivano l'alternativa, ad esempio la mobilità che abbiamo fatto noi, come la tanto discusa pista ciclabile, vanno in questa direzione, perché se vogliamo un mondo più pulito bisogna usare anche strumenti che lo rendono tale.